La stagione 2023, oggi è la prima giornata di sole, ma come si preannuncia per il turismo? Chi sceglie gli alberghi sotto Pasqua li sceglie sicuramente sotto data perché le previsioni meteo contano per scegliere appunto una destinazione. Per noi è importante giocarci bene appunto queste prime date d'inizio di primavera, ma che segnano comunque un banco di prova, come dicevo, importante per l'estate. Non solo la Pasqua, ma si aggiungono tanti altri ponti e quindi gli italiani potranno scegliere sicuramente uno di questi per passare almeno 4-5 giorni fuori casa. Si prevede anche da quello che dicono le statistiche nazionali una presenza straniera importante quest'anno? Sì, abbiamo visto che dopo il Covid sicuramente gli stranieri sono tornati a scegliere l'Italia, soprattutto gli americani, quindi speriamo anche noi di perdere una piccola quota di questi grandi arrivi che scelgono l'Italia. Avete già pensato come albergatori ad una proposta particolare di accoglienza per i vostri primi clienti estivi? Stiamo sicuramente, come dire, cucendo dei prodotti ad hoc. Sicuramente non si può prescindere dalla proposta museale e quindi culturale che la nostra città offre. Quindi dobbiamo potenziare questa rete e permettere la fruibilità anche in altri periodi. Quindi al vacanziero proveremo di ritornare sul territorio facendo appunto un lavoro di fedelizzazione e quindi di, come dire, conoscenza del territorio più approfondita anche in altri periodi dell'anno. Al di fuori del turismo e no gastronomico? No, soprattutto all'interno del turismo gastronomico. Vediamo che i target non possono essere, come dire, oramai troppo settorializzati ma invece vanno fusi. Quindi, come dire, in una società che si apre completamente anche noi dobbiamo effettivamente essere anticipatari all'avanguardia rispetto alle richieste. E qualche misura specifica di sostegno al settore prevista? Proprio lunedì 20 marzo sigleremo un accordo con Banca Intesa San Paolo dove si sono state preparate delle misure a sostegno degli albergatori, soprattutto sul caro bollette, sulla riqualificazione delle strutture e sul abbassamento dei costi energetici. Quindi per noi è importante permettere anche una, come dire, possibilità di investimento sulle nostre strutture per avere un'offerta maggiore e migliore.